Un'idea indirizzata in particolare ai piccoli comuni che si trovano in aree svantaggiate, ma anche alle aziende che producono rifiuti organici di varia natura. Il tutto parte da una start-up innovativa calabrese che sta per brevettare un sistema per una nuova gestione del rifiuto organico. In particolare noi utilizziamo degli artropodi che mangiando direttamente il rifiuto organico lo trasformano in se stesse, quindi abbiamo queste larve che nutriendosi di rifiuto producono larve più grasse e con le larve noi riusciamo a estrarre poi biodiesel, bioplastica e altri prodotti secondari. Sono circa due anni che stiamo lavorando, sono circa due anni che stiamo facendo test con questi insetti e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati su diversi campi di applicazione. Sicuramente i rifiuti organici che è stato il nostro primo target e poi anche ad esempio sulla gestione della pollina che sarebbe il letame dei polli o anche altre tipologie di letame o anche con i sottoprodotti di origine agroindustriale. La tecnologia è già utilizzabile, è già applicabile. Noi siamo in fase di brevettazione, quindi abbiamo già superato alcuni step del brevetto. Noi abbiamo brevettato non l'insetto perché è impossibile, abbiamo brevettato una biocella che ci permette di allevarlo. Ma quale tipo di insetto si andrà ad utilizzare? Ci sono dei rischi nella lavorazione? Gli insetti che andremo ad utilizzare sono insetti che sono presenti nel nostro territorio da oltre 500 anni, sono insetti che non hanno un pungiglione, sono insetti che non sono vettori di malattie e quindi non c'è nessun rischio a utilizzarle e in più sono insetti che sono stati normati dal legislatore europeo attraverso regolamenti quindi sono direttamente applicabili anche in Italia. I benefici per la comunità sono tanti. Pensiamo a un piccolo comune che deve portare a oltre 70 km i suoi rifiuti organici. Quello che noi stiamo facendo è, oltre ad aver sviluppato i prototipi, adesso stiamo cercando un partner che abbia il rifiuto organico da farci gestire.